Il cinema industriale negli anni Sessanta era considerato importante, perché ti dava dei mezzi abbastanza cospicui per girare e poi perché l'industria, il boom, c'era un'apertura su un mondo completamente nuovo, anche se eravamo tutti estremamente, quasi tutti di sinistra, nonostante questo però accettavamo di fare i registi per il cinema industriale e quindi per beatificare quello che in realtà noi stavamo combattendo, quindi c'era già una bellissima contraddizione. Diverso il rapporto con l'Olivetti, parlo della grande industria, lavorato soprattutto da Olivetti, Fiat e altri che non mi ricordo, diversi altri. Il rapporto con Olivetti invece era un rapporto molto ambito, perché lì si lavorava fianco a fianco con Franco Fortini e con Giovanni Giudici, il poeta, con Riccardo Ferricioli che era un grande intellettuale e dove avevi una grandissima libertà di espressione, ti venivano date delle direttive e poi si aspettava da te invece una grande, il più possibile dell'inventività che tu potevi portare. Adriano era già morto quando io sono entrato in Olivetti, a lavorare per Olivetti, però lo spirito aleggiava fortissimo ancora e era una situazione, ci sono arrivato giovanissimo, avevo 24, 25 anni, ci sono arrivato attraverso la pubblicità, perché da Roma avevo lavorato, avevo fatto il capo edizione per un grande produttore di pubblicità che si chiamava Ciuffini, al quale avevo detto, io faccio il montatore per te, perché all'inizio come mestiere ho fatto anche il montatore facendo contemporaneamente il regista, faccio il montatore per te se poi dopo però mi fai fare il regista e allora lui disse stai tranquillo, un anno con me, un anno io ho dormito in Moviola con 5 assistenti lavorando come un pazzo, sono scaduto l'anno, voglio fare il regista e lui ha detto con me no, perché già ci sono i tuoi fratelli e già nel mezzo arrivavano i fratelli, ti mando a Milano, che mi sembrava giusto. Sono stato mandato a Milano da un produttore, questo produttore mi ha preso e fra i primi lavori da fare c'era da fare di documentari divulgativi sulla prima idea di calcolatore che passava nella mente dell'ingegneria di Olivetti e sono entrato in questo mondo, sono entrato in questo mondo dove l'atteggiamento delle persone che avevano intorno era completamente diverso da quello che si poteva aspettare, era proprio il mondo Olivetti, il mio capo di allora si chiamava Riccardo Felicioli, non Olivetti, poi siamo diventati molto, molto amici, era uno che quando parlava se gli aveva voglia saliva in piedi sulla schivania, poi scendeva, ballava, cantava, era pieno di persone intelligenti, c'era una giovane copyright che era Irene Bignardi, mi ricordo, che era una bellissima fanciulla con grandi occhi verdi, azzurri, non mi ricordo, verdi, era un clima straordinario, tanto che lavorando con loro feci un documentario che mi sembra conoscere una scuola che parlava, o il calcolatore dei ragazzi, che parlava del rapporto appunto fra i ragazzi e la matematica e l'insemistica che arrivava in quel momento, per arrivare a un'idea di calcolatore e questo vinse l'osella d'argento a Venezia, non mi ricordo in che anno, nel 69 penso, sì, nel 69 e io ero talmente disinteressato in fondo a fare queste cose che invece profondamente mi interessavano, che dell'osella che ho vinto l'ho saputo dopo 3 o 4 anni, non c'era la comunicazione che c'era oggi, né io mi ero mai preoccupato di questo documentario che era andato a Venezia, altri tempi, altri atteggiamenti, ma forse l'atteggiamento anche della mia vita è questo qua. Quindi il rapporto con l'Olivetti, con il cinema industriale di Olivetti è un rapporto particolare, perché lì si voleva appunto da te un qualche cosa che andava a scavare proprio nella tua creatività e si era molto libero di fare ciò che si voleva fare. Il rapporto invece con la Fiat è un rapporto diverso, entrare nel mondo Fiat entravi in un mondo dove si sentiva fortemente le gerarchie, la struttura, bisognava stare molto attenti a come si parlava, io ero molto temuto, quando camminavo nei corridoi c'era sempre qualcuno che mi accompagnava perché pensava che dicessi qualche parola, avessi un atteggiamento rispettoso nei confronti, non dico delle persone, ma delle mura stesse, di Cine Fiat o della Fiat stessa, perché lavorare in Fiat era come entrare in una specie di chiesa, una basilica, un convento, un conventone dove tutti avevano un ruolo e c'era un rispetto delle gerarchie profondissime, lì la libertà era assolutamente inferiore, però nonostante questo chiamavano i registi molto bravi, non erano stupidi, non perché chiamavano me, hanno chiamato Valentino Orsini, non mi ricordo il nome, registi internazionali, molto in gamba e si esigeva una fedeltà assoluta ai testi e alle scalette che ti venivano date, sulle quali poi lavoravamo insieme, ma si doveva spiegare delle cose precise e poi avevi la libertà dell'immagine, l'immagine era quella che tu portavi, dovevi portare soprattutto un'immagine che arricchisse i contenuti spesso affannosi, affannati per descrivere una catena di montaggio. A proposito della catena di montaggio mi ricordo che è successa una specie di piccola rivoluzione, perché in montaggio io, annoiato di montare la catena di montaggio, esattamente come quei poveracci che stavano alla catena di montaggio, anche se tutto era già automatizzato, ragione di più per cui la gente si sentisse ancora più alienata, montai tutto al ritmo della ragazza ladra, il che sconvolse tutti, perché improvvisamente tutta questa serietà veniva completamente rovesciata da questo ritmo, sì che dava un ritmo di lavoro, ma poteva essere il ritmo di Cepline e allora il capo, il direttore del Cine Fiat, Giorgio Fossati, che poi è una persona amabilissima, però era molto ligio perché sapeva che doveva essere, era il suo compito quello, era la sua missione quello di essere ligio, ma era estremamente intelligente, era lui che sceglieva i registi, si scandalizzò e disse no così non va bene, io feci le bizze, di solito con il cinema industriale ho fatto poco le bizze perché sapevo che non ci si poteva spostare più di tanto se si voleva continuare a lavorare, feci le bizze e disse no, secondo me è giusto così, anzi è un'immagine della Fiat che va bene, mi disse di fare un documentario sui pezzi di ricambio Fiat, io disse mamma mia i pezzi di ricambio, andai a visitare questi posti terribili dove ti davano un pezzo di molla, un pezzo di cosa, inventiamoci una storia e mi inventai che c'era un gruppo di folli amanti delle macchine, delle auto che in un paese del Toscano a Volterra per dargli un contorno, un contorno bello da vedersi, per mettere alla prova l'efficienza dell'organizzazione dei ricambi di una grande ditta come la Fiat, abbiamo deciso di costruire una macchina solo con i pezzi di ricambio, allora lì abbiamo preso gli attori e abbiamo costruito, per finta perché è impossibile ricostruire una macchina con pezzi di ricambio, è quasi impossibile, costerebbe 20 volte la macchina stessa, raccontavamo questa storia di questa macchina che veniva ricostruita e quindi qui si lasciava una libertà, lavorare per la grande industria è sempre stata comunque una palestra perché intanto avevi dei mezzi per poter girare che a volte non avevi per altre cose e poi perché entravi in contatto con un mondo da quali avevi da imparare tutto, nel senso che quel mondo lì era il mondo del capitale, era il mondo da cui provenivano i soldi, era il mondo che sfornava le auto che vedevi sfrecciare a milioni per le strade italiane, per la Fiat per Olivetti invece era un'industria proiettata sull'avvenire, su un nuovo modo di concepire l'informazione, di come utilizzarla, di come immagazzinarla. Poi ho fatto invece un grossissimo documentario che allora costò 900 milioni, pensate 900 milioni facevano due film a che tempo, per la Deutsche Bank, ma non italiana che non esisteva in Italia, ma per la Deutsche Bank in Germania. Dovevo dare, loro avevano chiesto un regista italiano perché siccome si sentivano troppo tristi e cupi, volevano dare un'immagine della loro banca attraverso la regia di un italiano che pensavano che arrivasse con Pulcinella, con i tamburelli, queste cose. Abbiamo lavorato quasi per un anno, 60 attori, abbiamo girato anche in America, in tutta la Germania, abbiamo fatto tutto il reno, finito il documentario cambia la direzione, arriva il nuovo direttore, vede il documentario e lo butta via, mettano in un cassetto e dice non corrisponde all'immagine mia della Deutsche Bank. Quindi 800 milioni di allora, che adesso quanto saranno? Ragazzi saranno 3 milioni di Euro penso, furono buttati via perché era cambiato direttore che aveva un'altra idea, mentre l'altro l'aveva provato naturalmente, però doveva uscire. Un altro dei miei clienti, anzi è stato l'Alitalia, questa è un'altra bellissima esperienza devo dire, l'Alitalia perché con Alitalia ho lavorato con diversi direttori e con diversi direttori della comunicazione e anche lì come non li vetti sono diventato l'amico intimo del direttore della comunicazione di un periodo dell'Alitalia che si chiamava Enrico Pacchiarotti che era un uomo molto legato agli artisti, che pubblicava solo libri d'arte, amico di pittori, di scultori, grande amico di Pomodoro, in casa sua incontravo sempre grandi nomi della pittura e delle arti plastiche, personaggio un po' anomalo per l'Alitalia del tempo, infatti stavano sempre per cacciarlo perché poi fra l'altro era anche comunista, l'unico, se volete vi racconto un piccolo episodio sul fatto che lui era comunista che è molto divertente, a una scena incontro Lietta, Tornabuoni, eravamo veramente molto buoni amici e lei diceva cosa stai facendo? E io raccontavo, sai che c'è un lavoro all'Alitalia, c'è questo personaggio che è straordinario, era poco che lo conoscevo, ma io penso che è l'unico comunista che era in tutta l'Alitalia e pure riesce a reggere… Stavano per buttare fuori per chi ha pubblicato come stena di Natale un libro di immagini erotiche dei pittori di oggi, quindi è stato un grande scandalo… Poi parliamo d'altro… Mi chiama dopo tre o quattro giorni Enrico e mi dice è uscito un articolo sull'Espresso che parla di me dicendo… Ma a me sono i guai terribili, ma chi può aver mai detto una cosa del genere, una cosa segretissima? Io naturalmente feci finta assolutamente di niente e telefonai a Lietta dicendo Lietta, ma io ti ho raccontato la cosa… E Lietta mi rispose, Franco io sono tutta amica, ma io sono una giornalista, quello che mi si racconta tu lo devi ben sapere, se mi si racconta mi si racconta e io stavo per far licenziare questo pover'uomo perché mi ha raccontato la sua storia di comunista dell'esistenza all'interno della Litalia. Con la Litalia ho lavorato molto bene con lui, poi dopo anche con chi è venuto dopo di lui, con Pino Sebasti che è stato anche lui un grande amico, un amico di famiglia e ho girato tutto il mondo, mi ha dato la possibilità di andare dovunque, allora io poi mi inventavo, dovevo fare una nuova rotta che era ad esempio la rotta orientale, non mi ricordo dove atterravano, Shanghai mi sembra e ora non c'è più la linea. Io allora ho deciso che si doveva fare uno spot sull'Oriente e in generale non importa se vai solo a Shanghai, per cui mi sono infilato nelle giungle del Laos, ho girato dappertutto facendo degli spot, tra l'altro sono stati premiati, uno ha vinto il primo premio al festival di Acapulco e poi mi sono ritrovati alla mostra del luce, sono entrato in una stanza grande di questa bellissima mostra e mi sono trovato circondato dalle mie immagini che erano le immagini dell'Alitalia che sono tutte finite a luce evidentemente e quindi anche con l'Alitalia sì c'era stata libertà anche lì, chiaro che lavori per il padrone che deve vendere un prodotto, poi ho fatto pubblicitaria per anni per cui le industrie le conosco bene, però lavorare per queste grosse industrie dava anche un senso di essere al centro del mondo vero del lavoro e del capitale, magari utilizzato molto male dal mio punto di vista, ma è lì comunque al centro di una conoscenza di quello che è il nostro modo di essere.